Macro categoria studi e boutique legali e professionali, la categoria è quella del diritto del lavoro. Il premio, avvocato dell'anno emergente labor, la motivazione è questa, per essere apprezzato dai clienti per la capacità di offrire un supporto di consulenza a tutto tondo con una visione lucida e tempestiva del mercato del lavoro. Il professionista risponde sempre in modo puntuale alle esigenze dei clienti, offrendo un servizio qualificato. The winner is Leading Law Ecco, molto piacere che saluto l'avvocato Luca Fazzini, partner Leading Law Notai e Avvocati. Avvocato, grazie per essere qui, ben trovato naturalmente, complimenti per questo riconoscimento. Grazie a voi, grazie per il riconoscimento che onora molto me e la struttura di cui faccio parte. Cosa significa per voi in questo momento un premio come quello che stiamo assegnando oggi? E' un riconoscimento che sicuramente ci onora e rappresenta un riconoscimento per il lavoro finora svolto nell'ottica chiaramente di confermarci in futuro su standard qualitativi elevati di consulenza e di servizio alla clientela. E quindi ringrazio molto, a nome mio e a nome dello studio, il comitato scientifico e la direzione delle fonti per questo graditissimo premio. Ecco, rifacendomi un po' anche alla motivazione tra le varie cose, è importante credo mettere in evidenza come, visto il periodo storico che stiamo vivendo e vista la rimodulazione dei rapporti anche tra le persone, essere riusciti a rispondere in modo puntuale proprio alle esigenze dei clienti, che immagino siano anche molto cambiate in questo periodo avvocato, conferma? Sì, condivido assolutamente anche, come dire, sulla base di queste considerazioni che nasce la nostra idea di struttura, l'Iding Law Notaio Avvocati è una struttura recente che nasce dall'idea del fondatore, il notaio Andrea Ganelli, inizialmente su Torino e che si sviluppa poi su scala nazionale. L'idea è quella di, come dire, aggregare professionisti con competenze diverse e nelle diverse aree specialistiche, al fine di consentire al cliente un servizio sempre estremamente preciso, dettagliato a 360 gradi su tutti i rami del diritto. Si tratta di una struttura giovane, dove ci sono appunto giovani come il sottoscritto che hanno possibilità di crescere, che si affiancano a professionisti di consolidata esperienza con i quali riusciamo a crescere e fare un percorso appunto di crescita anche per la clientela. La classica domanda di conclusione, insomma, progetti per il futuro? Continuare a evolversi e a seguire il più possibile le esigenze del cliente, possibilmente anticipandole e stando sempre attenti alla realtà che si sviluppa. È un momento, soprattutto per quanto riguarda il diritto del lavoro, di grandi cambiamenti, di grande attenzione e il nostro impegno è focalizzato su dare sempre il miglior servizio possibile. Complimenti a Leading Law per questo premio, ancora più importante sentito in un momento come questo e naturalmente grazie all'Avvocato Luca Fazzini, ricordo, partner Leading Law, notai Avvocati e al prossimo riconoscimento. Dai, mettiamola così. Grazie mille e grazie a voi ancora. Grazie Avvocato.